Ma facciamola finita veramente, ora va di moda Amazon FBA, danni di tutorial di gente che ti spiega come funziona Amazon FBA, di quanto si guadagna e di tutto quello che ci sta intorno e va bene per chi vuole conoscere Amazon FBA va benissimo, per chi vuole vendere su Amazon va benissimo, tra l'altro alcuni sono anche tutorial ben fatti, ti spiegano Jungle Scout, Amazon Scout, si va bene, va benissimo, ma non inventate le balle, non andate a dire si guadagnano 100k, 100.000 euro all'anno con Amazon, partiamo da un presupposto, chi arriva a guadagnare quelle cifre lì? E sì, è vero, ci arrivano, sono persone che sono professionisti, sono persone che hanno studiato tanto, 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 che hanno lavorato tanto, 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 che hanno fatto un modello di business con tanta esperienza alle spalle. Quindi non si può andare a dire che con Amazon FBA compri dalla Cina e tu ti arriva col pezzo, te lo vendi, no, non funziona così, non funziona così. Amazon è sicuramente uno strumento eccezionale per vendere, ma bisogna essere preparati perché altrimenti ti arrivano delle cantonate così grosse che non ti rialzi più. Però questo non te lo dicono, non te lo dicono quasi mai, sono pochi canali che te lo dicono. Quindi, volete vendere su Amazon? Bene, ma informatevi, preparatevi. Se non avete l'informazione alle vostre spalle, se non avete la preparazione alle vostre spalle, se non avete la conoscenza alle vostre spalle, Amazon può diventare il vostro incubo nel senso che avrete buttato via dei soldi, che poi si parla di 100 euro, di 1000 euro, di 100.000 euro, conta poco. Dovete essere preparati per vendere su Amazon, dovete essere preparati, dovete studiare, dovete confrontarvi con magari altre persone che già lo fanno, dovete cercare dei tutorial seri, dovrete avere una piena conoscenza dell'e-commerce, allora sì, i risultati arriveranno, allora sì, con questa metodologia, battendoci giorno dopo giorno e quindi studiando, provando, analizzando, guardando tutorial, leggendo libri di marketing, leggendo libri di campagne, di advertising, eccetera, allora sì, otterrete i risultati, ma quando vedete un video che vi dice che con Amazon FBA si guadagnano da 0 a 100k in un anno comprando dalla Cina, per favore, basta, i tuoi 100k, mettiteli in quel posto e non sparare delle cazzate. Ragazzi, il business si è spostato su internet, ma non significa che non bisogna lavorare, ci sono nuove opportunità, ma dobbiamo lavorare anche lì.